Il poeta iraniano, Max Navi, è tradizionato in italiano, quindi speriamo che ti piacerebbe molto bene. Mr. Prime Minister, potete deliverare la parola da vostra parola. Grazie, grazie mille. Grazie, credo che a nome del governo italiano vorrei esprimere il mio personale sentimento di amicizia e di riconoscenza al Ministro Nemazzade, al Presidente Jalalpur e a tutti voi che siete qua. Questo è un business forum, quindi la parte forum, la parte delle chiacchiere deve restringersi, quindi devo parlare pochissimo e la parte business deve avere la priorità. Allora mi limito a brevissime considerazioni. Noi siamo in Iran non per fare accordi economici soltanto. Vedo le facce perplesse dei miei amici italiani, ma come? Ci sono tante occasioni di business e io rispondo, certo, vanno colte, vanno prese una per uno e noi e i nostri amici iraniani insieme faremo di tutto perché queste occasioni siano colte, ma prima di tutto c'è il sentimento comune di due grandi civiltà, di due grandi esperienze storiche, culturali, la grandissima civiltà persiana, la grandissima civiltà romana e del Rinascimento. Io credo che da questo punto di vista ci sia innanzitutto un sentimento comune di valori e di grandi patrimoni culturali da condividere. Primo tema, prima ancora che del business. Secondo tema, c'è la convinzione profonda da parte dell'Italia e dell'Europa che il ruolo che può giocare l'Iran dopo l'accordo sul nucleare è un ruolo geopolitico strategico per tutta la regione e non solo per la regione. Noi abbiamo un mondo che presenta tanti problemi, tante difficoltà, tante sfide, non solo il terrorismo internazionale. Abbiamo crisi militari che diventano poi dopo la tregua crisi umanitarie. Io sono molto contento che con grande timidezza in Siria e in Yemen si sia arrivati a una tregua, ma questa tregua che va accudita, che va aiutata, è una tregua che lascia sul campo una crisi umanitaria spaventosa. Sono milioni i siriani che hanno lasciato la propria terra, che vivono l'esperienza di profugo. Sono 15, 20 volte il numero degli immigrati che sono arrivati in Italia e che nel nostro dibattito sembrano un numero enorme, un numero importante, certo, ma provate a pensare a moltiplicare per 20 e pensate alla Siria. Paesi piccoli come il Libano o la Giordania accolgono 10 volte le popolazioni che scappano dalla guerra rispetto a quelle che accogliamo noi. E in Yemen, quando pensiamo che il 23% delle vittime sono state bambini e il 18% donne, ci rendiamo conto che siamo di fronte a una tragedia che ha delle conseguenze umanitarie. Se riusciamo a implementare l'accordo politico sul nucleare come stiamo cercando di fare e come ieri abbiamo discusso e di cui ieri abbiamo discusso a lungo col Presidente Rouhani, credo che saremo nelle condizioni di poter dare un messaggio di stabilità in tutta l'aria. Poi naturalmente lavoriamo insieme nel teatro della Libia, che è per noi cruciale e fondamentale, lavoriamo insieme in altre sfide geopolitiche, anche cercando di discutere delle questioni su cui non siamo d'accordo, perché ci sono anche dei temi su cui non siamo d'accordo. Questi sono i due punti centrali, la grande storia e la civiltà e il ruolo politico oggi per dare pace. Abbiamo discusso a lungo ieri, non soltanto con il Presidente Rouhani, ma anche con Sua Eccellenza Raspangiani e con la Guida Suprema Camenei, a proposito dei rapporti, anche culturali, la necessità che la grande famiglia dei figli di Abramo, come la definiva l'allora Sindaco di Firenze, Giorgio Lapira, possa affermare le ragioni del dialogo e della pace. Tutto questo è priorità per l'Italia e sono molto lieto di essere il primo Presidente del Consiglio occidentale, il primo Capo del Governo occidentale che torna a Teheran dopo la fine delle sanzioni. Ma tutto questo, e vengo al business, ha necessità di essere poi messo in pratica da rapporti che non rimangano sulla carta. Il vero modo per affermare un'amicizia è quello di condividere dei valori, non c'è dubbio, ed è quello di lavorare insieme politicamente. Poi c'è uno spazio, che è uno spazio di cooperazione, che va valorizzato di più. Vale a livello educativo, Stefania Giannini è qua per la seconda volta nel giro di sei mesi, ha aperto l'anno scolastico della scuola vicino all'ambasciata nel mese di settembre, abbiamo detto alla grande esperienza universitaria iraniana, una delle realtà universitarie più importante e numerosa del mondo. Perché la cultura di questo popolo, del vostro popolo e la qualità dei suoi giovani, dei suoi studenti, cui va un mio pensiero affettuoso e denso e carico di stima, è una comunità che gode del massimo rispetto in Italia. Bene, questi accordi poi si possono collegare ad accordi di natura commerciale, però dobbiamo essere operativi, bisogna correre, correre e correre. Correre come corrono i treni italiani, correre come corrono le aziende che sono qua e che hanno progetti concreti. Ivan Scalfarotto è a vostra disposizione, l'ho fatto scendere dall'aereo, rimane qui con voi tutto il giorno, quindi torna con Alitalia e non torna con il volo di Stato perché possa lavorare concretamente agli accordi che firmate oggi, ai 12 accordi che firmate oggi, ma anche alle prossime tappe. Annuncio da subito ai ministri e alle eccellenze presenti che il prossimo follow up sarà di nuovo l'avvenuta qui di Ivan Scalfarotto a seguito non del Presidente del Consiglio, ma del Ministro dell'Economia e delle Finanze che dunque organizzerà una missione ad hoc perché la priorità, ne abbiamo parlato con molti istituti di credito, con molte realtà del mondo finanziario, oggi è la questione finanziaria, quindi la prossima tappa sarà la presenza a Tehran del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Presidente, Professor Paduan, con Scalfarotto e con le principali istituzioni finanziarie, alcune sono già qui e a loro va il mio grazie, tra l'altro è di tre giorni fa la notizia che la prima banca occidentale, che credo sia Unicredit e che è qua, credo ci sia Scognamiglio, qua presente, eccolo là, ha aperto, ha fatto un deal con le autorità iraniane e quindi ha aperto sia le possibilità di filiali in Europa come qua, quindi c'è un passaggio importante sul sistema del credito, sono presenti le principali banche, c'è Intesa San Paolo, c'è l'amministratore delegato di Mediobanca, c'è l'amministratore delegato di Sace, ci sono tutte le realtà pronte a lavorare sul tema finanziario, i progetti ci sono, vanno realizzati, vorrei dire e chiudere, i progetti non sono soltanto sulle infrastrutture, cari amici iraniani, qui ci sono alcune delle realtà più prestigiose in Italia, ci sono aziende leader nell'agroalimentare, ci sono aziende leader mondiali della pasta e vi prego di credere che la pasta non italiana non è pasta, vi raccontano che è pasta ma è una finzione, quindi la vera pasta italiana, ci sono realtà del mondo della moda, come non pensare alla via della seta e al fatto che i pellegrini commercianti, chiamiamoli così, della via della seta avevano il farsi e i dialetti italiani come lingua di dialogo difficile talvolta, ma impegnativo e affascinante, ci sono realtà nel mondo energetico, a partire ovviamente da Eni e da Enel che hanno tutte le condizioni per poter fare dei lavori straordinari, ci sono nel mondo dell'acciaio presenze che ormai sono presenze stabili e solide, c'è uno spazio nel mondo sanitario e dei servizi ad esso connesso che credo sarebbe un gigantesco delitto buttare via, ci sono sulle infrastrutture e sul tema della infrastruttura tecnologica, penso ad esempio a Internet ad alta velocità, alla cyber technology, degli spazi di azione che sono davvero significativi. Poche chiacchiere, poche parole, molti fatti, l'Italia c'è, siamo arrivati per primi dopo le sanzioni perché pensiamo che ci sia un rapporto tra di noi, che è un rapporto innanzitutto di amicizia, di condivisione e di anche volontà comune e reciproca di futuro, Iran e Italia hanno un grande problema che però è anche una grande opportunità, noi abbiamo un passato che mette i brividi dalla bellezza e dalla imponenza della nostra storia, pensate al passato persiano, pensate al passato italiano e vi vengono i brividi, vi vengono le vertigini, il nostro obiettivo è quello che questo passato non sia soltanto un ricordo, che questo passato sia un qualcosa di cui andare orgogliosi nei nostri musei, nelle nostre tradizioni culturali, ma sia anche una grande sfida per il futuro. Io voglio bene al passato dell'Italia, ma sono geloso del futuro dell'Italia, perché sono convinto che il futuro possa essere migliore del passato, a condizione di mettersi a lavorare, di crederci e di essere capaci di essere molto concreti e operativi. Allo stesso modo questo è il sentimento, il feeling che ho trovato con le autorità iraniane, nostro compito allora è quello di essere particolarmente pragmatici, particolarmente operativi, c'è il grande framework che vi ho raccontato della parte culturale e della parte politica, in questo framework c'è uno spazio che è un'autostrada di lavoro insieme, a condizione che il credito faccia la sua parte e a condizione che i progetti siano basati sull'altissima qualità che l'Italia ha. Quindi agli imprenditori italiani non fateci fare brutta figura, ma voi non ce la fate mai fare e quindi so perfettamente che quando si affida un progetto agli imprenditori italiani si torna a casa contenti perché il risultato non è positivo soltanto dal punto di vista della tempistica o delle procedure, ma della straordinaria qualità, agli amici iraniani dico che quello di oggi è stato un appuntamento importante, ma quello ancora più importante sarà quando i 12 accordi di oggi, i 5 accordi di ieri, i 30 accordi di Roma e tutto ciò che comunque bolle in pentola diventerà occasione di sviluppo economico per l'Iran e per l'Italia, di occupazione per i giovani di questo Paese. Ieri il Presidente Ruani mi sottolineava l'importanza di offrire occasioni di occupazione per i giovani, per le donne, per le giovani donne laureate non solo di questo Paese, per i giovani laureati di questo Paese e anche per noi, per noi italiani, per poter essere finalmente in grado di tornare a vivere non soltanto il passato come ricordo, ma il passato come sfida per fare ancora meglio. Viva la nostra amicizia e viva la cooperazione istituzionale, economica e commerciale. A tutti e a tutti un augurio di buon lavoro. A te Ivan, resta qui, mi raccomando, non ti riportiamo indietro finché il lavoro del Business Forum non sarà stato un lavoro positivo. Grazie di cuore.